Buonasera, buonasera a tutti le persone che si stanno collegando a questa diretta Facebook, diretta Facebook Centro Studi Machiavelli, ma ricordo siamo in diretta anche sulle pagine di Progetto Prometeo, di Ritorno al Reale e di Guglielmo Picchi, quindi ringrazio tutti gli amici che si sono collegati anche da queste pagine, da queste pagine partner che ci danno ospitalità, l'invito ovviamente a chi segue Machiavelli anche a dare un'occhiata a queste altre pagine, anche loro hanno contenuti molto interessanti, mentre chi ci vede da queste pagine se vuole può esplorare un po' quello che fa Machiavelli, eventualmente mettere mi piace o seguire la pagina per vedere anche in futuro altre dirette come questa. Oggi siamo, innanzitutto adesso come vedete c'è già qui con noi Stefano Graziosi, Stefano Graziosi è ricercatore del Centro Studi Machiavelli, buonasera Stefano, nonché analista, esperto in particolare di politica americana per la verità, per panorama, spesso anche opinionista, lo sarà anche questa notte per Tg.com 24 e per altri canali radio televisivi, mi dicevi se non sbaglio anche Rai 2 domattina, domattina ti vedremo ecco anche su Rai 2. Ci raggiungeranno Germano Dottori, analista geopolitico di Limes e Guglielmo Picchi, deputato della Lega, membro della Commissione di Affari Esteri, ex sottosegretario di Affari Esteri, è stato trattenuto dai lavori parlamentari che si sono prodotti perché sapete che la Camera in queste ore sta affrontando un tema fondamentale per le sorti della nazione, cioè il DDL contro l'omofobia e quindi i lavori si stanno protraendo molto, ci raggiungerà comunque all'incirca un quarto d'ora e avremo anche fra qualche minuto un collegamento in diretta dagli Stati Uniti con Max Ferrari, osservatore OSCE che ci darà un po' un aggiornamento sul terreno. Quindi vedo che già un buon numero di persone si sono collegate, vi ringrazio di essere qui, adesso partiamo subito con la discussione. Non prima di avervi ricordato che se volete potete mandare i vostri commenti, le vostre domande per gli ospiti, li leggeremo, riporteremo queste domande ai nostri ospiti, quindi sentitevi liberi di partecipare attivamente a questa diretta. Dunque si sta votando negli Stati Uniti, si sta votando in realtà ormai da giorni tramite voto via posta, voto anticipato, ma oggi è effettivamente election day, si vota e i seggi chiuderanno, i primissimi seggi chiuderanno alle mezzanotte ore italiana, si tratta di una parte dei seggi dell'Indiana e una parte dei seggi del Kentucky, ci sono alcuni Stati che sono divisi tra più fasce orarie, quindi questi hanno dei differenzi di chiusura di orario. I primi veri Stati che chiuderanno, quindi Kentucky, Indiana, anche Georgia, South Carolina, Virginia e Vermont sono per l'una. Tra le due e le tre avremo poi la chiusura dei seggi della maggior parte degli Stati, l'ultima sarà l'Alaska alle 7, ma per quel momento gli Stati fondamentali già si saranno espressi, quindi vedremo poi nella piena notte italiana, vedremo uscire i primi exit poll, che saranno da prendere particolarmente con le molle, perché sappiamo che gli exit poll sono fallibili già di per sé, a maggior ragione sono molto fallibili quest'anno in cui una quota molto grande del voto è stata anticipata, poi è arrivata via posta e via posta ovviamente non si possono fare assolutamente gli exit poll e poi avremo le proiezioni, quelle sicuramente saranno più interessanti, ma attenzione, come avremo modo di dire anche in questa serata, come sicuramente già sapete, il fatto che ci siano stati così tanti voti via posta significa che non è detto che avremo subito i risultati definitivi, di solito siamo abituati ad averli intorno all'alba italiana, a grosso modo, siccome ci sono degli Stati che li conteranno successivamente e ci sono anche degli Stati che permettono di contare i voti via posta che arrivano a distanza addirittura di giorni, questo è molto importante, è successo in Pennsylvania, decisione tra l'altro molto contestata, i voti che arriveranno se non sbaglio fino a tre giorni dopo l'Election Day potranno essere conteggiati, addirittura la Corte Suprema di Pennsylvania, dominata da giudici in nomina democratica, ha stabilito che potranno essere accettati anche i voti che arrivano con una firma che non coincide con quella che c'è nell'archivio dei registri elettorali, i Repubblicani hanno provato a fare ricorso contro questa decisione, non ci sono riusciti, molto contestata, ma questo fa capire quanto rischio c'è di avere delle elezioni effettivamente caotiche e alla fine contestate. I sondaggi, lo sappiamo, non sono assolutamente favoribili da Donald Trump, se stessimo a guardare i sondaggi avremo un quadro molto chiaro, cioè ci aspetta una netta affermazione di Joe Biden, ad esempio la media dei sondaggi di Real Clear Politics ci dice che Biden avrebbe a livello nazionale un 7,2% di vantaggio su Trump e praticamente tutti i sondaggi vedono un vantaggio di Biden, chi più chi meno, si va da 11 punti di Kini-Piak a un singolo punto percentuale di Rasmussen, che tra l'altro sono differenze molto importanti perché con il meccanismo del voto elettorale con l'1% di vantaggio di Biden probabilmente sarebbe Trump a diventare il presidente, però diciamo che la media è assolutamente favorevole a Biden, lo stesso sito prevede che Biden potrebbe contare su un pacchetto sicuro di 216 seggi elettorali, ricordo che i grandi elettori per vincere sono 270, questo è il dato essenziale, la previsione di 548, sito di statistica molto eseguito all'89% vince Biden, secondo la previsione di 270 to win, avremmo addirittura Biden che anche togliendo gli stati su cui si è indecisi arriverebbe a 279, quindi una vittoria praticamente certa, ma c'è da dire che molti altri danno risultati simili, Cook Political Report prevede 2,90 per Biden, Inside Election 350, The Economist 334, quindi diciamo che chi si basa su questi sondaggi sembra essere molto convinto che vedremo una netta affermazione di Biden. La domanda che allora faccio a Stefano Graziosi è che possiamo andare a letto tranquilli perché tanto vincerà sicuramente Biden o le sorprese potrebbero essere esserci? Ma diciamo che innanzitutto tu citavi giustamente i sondaggisti o gli istituti di sondaggi più blasonati, poi ce n'è tutta una schiera di più piccoli, un po' più anti-establishment se vogliamo, tipo il Trafalgar Group che dicono tutt'altro, cioè che danno Trump avanti negli stati chiave, il loro ragionamento è uno, loro dicono rispetto agli altri sondaggisti blasonati, attenzione perché esistono i cosiddetti elettori nascosti che sarà oggi che usciranno allo scoperto e permetteranno a Trump di vincere. Io non so se loro hanno ragione, ha detto che mentre Ned Silver l'altra volta non ci prese, il Trafalgar l'altra volta ci prese, poi è stato un colpo di fortuna, io questo ovviamente non lo so, però insomma è una situazione… Tra parentesi, anche se è molto esposto alle primarie democratiche dicendo che avrebbe vinto Sanders, per settimane o mesi ci furono analisi in cui dicevano che Sanders questa volta ce l'avrebbe fatta e poi sappiamo che è finito. Prego. No, 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 ma infatti voglio dire, il tema dei sondaggi va sempre preso come ricordavi tu con le pinze sia che vai in un modo sia che vadano poi in un altro. Quindi io mi soffermerei questa sera più sulle condizioni strutturali di questa campagna elettorale che secondo me segnalano una partita aperta, quantomeno è tutt'altro che scontata. Soprattutto perché questa partita elettorale, lo accennavi prima, vede due stati principalmente protagonisti, questo non vuol dire che siano i soli per carità, però principalmente i protagonisti che sono la Florida e la Pensilvania. Se Trump riesce a difendere Florida e Pensilvania non dico che abbia la strada automaticamente spianata, però per Biden la situazione può farsi molto più difficile, posto che poi ovviamente Biden abbia più, come dire, più possibilità di arrivare alla Casa Bianca. Però quella in un certo senso è la via maestra, tra virgolette. E allora io quello che mi limito a ravvisare è che dal punto di vista strutturale sia in Florida che in Pensilvania la situazione è molto più bilanciata di come talvolta viene descritta. È vero per esempio che in Florida Biden ha la possibilità, sembrerebbe, di sottrarre una parte cospicua del voto degli anziani a Trump, dei bianchi ultra 65 anni, ma Trump dal canto suo sta erodendo la base dei latinos a Biden in Florida e quindi questo bilancia molto la situazione. In secondo luogo Trump ha più carte potenzialmente almeno da giocarsi in Florida perché ha l'anticastrismo, carta su cui Biden è più debole perché lui è stato vice di Barack Obama che ha aperto a Cuba nel 2016. Ricordiamo che tra le candidate vice vicepresidenti di Biden ci fu anche il nome di Karen Bass che è una deputata afroamericana della California che nel 2016 aveva l'idea di fare un elogio di Fidel Castro, questa cosa pura non credo che sia piaciuta molto, ma poi al di là dell'anticastrismo c'è il tema della difesa della libertà religiosa che è un tema che gli ispanici non solo della Florida, dà attenzione, tengono molto in considerazione. Io ravviso che oggi Real Clear Politics non solo da Biden in Florida avanti dello 0,9%, quindi siamo dentro il margine di errore, ma il Nevada, che è uno stato che Trump perse di poco quattro anni fa, in Nevada Biden è avanti oggi di 2,2%, quindi siamo anche lì all'interno del margine di errore. Quindi questo per quanto riguarda Florida e in parte Nevada. Poi c'è il tema della Pennsylvania, anche lì, voglio dire, Trump ha fatto una rimonta in questo mese, era partito da uno svantaggio del 6 punto qualcosa, adesso è a meno 1,2 secondo Real Clear Politics. Hillary Clinton alla vigilia delle elezioni di quattro anni fa in Pennsylvania era avanti di 2 punti, non di 1, sempre Real Real Politics. Perché questo? Perché Trump ha cavalcato efficacemente la questione della fratturazione idraulica, l'ambiguità di Biden sulla fratturazione idraulica, l'ambientalismo molto spinto di Kamala Harris, che non viene ben visto dai colletti blu della Pensilvania, anche fare campagna elettorale con Lady Gaga secondo me in Pensilvania non ha molto aiutato, ma non fosse altro perché Lady Gaga è un ambientalista convinta a contare al fracking e quindi tu vai in Pensilvania a fare una campagna elettorale con una che è contro il fracking, quando lì il fracking, giusto o sbagliato che sia, non entro nella questione tecnica, però, voglio dire, è il fulcro un po' dell'economia di quello Stato. Quindi anche lì, voglio dire, la situazione è molto più aperta. I sondaggi a cui tu facevi riferimento prima, quasi tutti, partono da un presupposto, cioè che Biden vincerà tutta la Rust Belt. E io è su quel presupposto che avanzo qualche dubbio, perché Biden secondo me ce la farà vincere per esempio il Wisconsin. Sulla Pensilvania sono molto dubbioso, così come sono dubbioso sul Michigan, perché il Michigan è vero che Trump non sta messo benissimo, ma non sta neanche messo malissimo. Quindi per concludere questa prima parte, io dico molto cautamente, molto cautamente, la partita è ancora aperta. È vero che un'ora fa Trump ha fatto un'uscita non molto promettente, perché con una faccia abbastanza seria ha detto che perdere non è facile perdere, per me non è una cosa facile perdere, cosa che con quella faccia fermata ad urne aperte non lascia sperare dal suo punto di vista, secondo me dopo che ha fatto una campagna elettorale molto energizzante, voglio dire, in cui ballava addirittura, ha fatto questo spot insomma molto coinvolgente, però io credo che dal punto di vista strutturale in questi stati chiave, Florida, Pennsylvania e Michigan e ripeto anche il Nevada, la situazione sia molto più aperta di come spesso viene detto. Sì, è uno dei fattori su cui pongono molto l'accento e la possibilità di questi shy voters, questi votanti timidi che appunto non si dichiarano nei sondaggi, i veri sondaggisti dicono di, ad esempio, Ney Silver che citavamo prima, sostiene che in realtà non ce ne sarebbero così tanti che sarebbero riusciti a fare dell'analisi, mentre ad esempio i Trafalgar Group, anche questo citato da te, che sostanzialmente è l'unico istituto di sondaggi che dà a Trump sicuramente vincente con un margine e sostiene che sia l'unico che sta riuscendo a intercettarli. È credibile che ci sia visto anche il clima che c'è negli Stati Uniti, cioè un clima in cui il Presidente Trump viene costantemente insolentito e demonizzato assieme a tutti i suoi sostenitori da buona parte dei media, delle celebrità e poi abbiamo visto quest'estate in molte città americane, delle piazze violente di persone che odiano Trump e odiano appunto chi lo sostiene. Pensi che questo potrebbe essere un fattore che ribalta le sorti di questa elezione? Se questi elettori nascosti ci sono, secondo me usciranno dalle periferie cittadine. Periferie cittadine in Stati come la Pennsylvania, in Stati come Minnesota, che è un altro Stato da monitorare, lui l'ha perso nel 2016 ma va monitorato perché lo stacco non è in mane, sono quattro punti. Ed è da lì secondo me che se questi elettori nascosti ci sono potrebbero uscire su un tema, come dicevi te, proprio come quello securitario, come quello del law and order, che è un tema su cui l'elettore mediamente si esprime poco perché è un tema spinoso, bisogna esporsi, chiama poi in causa anche altre questioni che sono spinose come il tema del razzismo, delle proteste, eccetera. Quindi è un tema secondo me rispetto a cui molti elettori cercano di stare bassi nei radar e quindi io credo che se questi elettori esistono saranno da quel bacino che prevalentemente potranno uscire. Diciamo che nei sondaggi, soprattutto in queste ultime settimane, un po' il tema law and order non dico che non fosse trattato ma era trattato un po' troppo poco, quando invece è stato un tema fondamentale di questa campagna elettorale da fine maggio ad oggi possiamo quasi dire. Quindi il fatto che sia stato trattato così poco, anche lì un po' di dubbi, io parlo dai sondaggi, un po' di dubbi sinceramente mi rilasciano. Alla fine se noi ci pensiamo la piattaforma politica di Biden non è che sia così ricca e si è sempre concentrata sul tema della crisi del coronavirus, però anche lì è stato efficace fino a un certo punto in questa campagna elettorale, però c'è un altro tema che è emerso nell'ultimo dibattito televisivo tra i due, quello più recente e cioè che alla fine esiste anche un mondo, come posso dire, economico, produttivo non solo imprenditoriale ma anche fatto di lavoratori dipendenti, che il lockdown non è che lo desideri tanto e questo mondo diciamo a livello mediatico in America non è che sia così rappresentato, per cui temo che anche i sondaggi insomma un pochino potrebbero, uso il condizionale ovviamente, averlo sottostimato, sottorappresentato, perché il tema come dire del coronavirus in Europa è stato raccontato in un modo che secondo me non è esattamente quello che stanno vivendo in America, cioè mi spiego, il tema coronavirus io credo che negli Stati Uniti sia ricompreso all'interno della solita dinamica che ormai caratterizza le due Americhe, tra un Midwest e un Sud che vanno da una parte e le due coste che vanno dall'altra, chi tifa per una chiusura netta dell'economia in America o sono le classi abbienti o sono appunto quelle classi che diciamo non hanno bisogno urgente come dire di lavorare per sostentarsi, invece tutta quell'altra parte, quei ceti lì io credo che Trump li stia intercettando, perché nell'ultimo dibattito, benché qualcuno si sia divertito a dire un negazionista eccetera, Trump non ha fatto un discorso negazionista, detto il virus c'è, è ovvio che c'è, però dobbiamo bilanciare le due esigenze della salute e dell'economia, laddove Biden il tema dell'economia su questo fronte non lo ha mai effettivamente trattato. Sì, poi una cosa che mi colpisce è che nel messaggio di Biden sulla Covid, che in teoria sarebbe un messaggio che sta risuonando molto nel pubblico americano, ripeto sempre prendendo per buoni questi sondaggi, quello che dico gli analisti che comunque il tema Covid vedrebbe molto favorito Biden nell'opinione pubblica americana e poi un messaggio molto semplicistico. Quello che dico i democratici, che ha detto in sostanza anche Biden nell'ultimo dibattito, è che negli Stati Uniti sono morte 220 mila persone, tutte 220 mila sono morte per colpa di Trump. Semplicistico perché ovviamente stiamo parlando di una pandemia che ha colpito tutto il mondo e vediamo tanti altri stati avanzati, l'Europa centrale, l'Italia anche, che stanno pagando degli scotti paragonabili a quello americano talvolta, perché poi non bisogna mai dimenticarsi che le cifre non vagano in termini assoluti, ma andrebbero viste nel rapporto della popolazione, talvolta anche molto peggiori in termini di letalità rispetto a quello che succede negli Stati Uniti. Poi ecco, i media, con gli italiani l'abbiamo visto, l'Italia è diventata il modello Italia, mentre gli Stati Uniti è Trump che ha perso il controllo, però alla fine se andiamo a vedere i risultati in termini di vite perse purtroppo sono assolutamente paragonabili, in termini economici, anzi negli Stati Uniti sta andando un po' meglio rispetto a come sta andando in Italia. La crescita del 33% nel ultimo trimestre è stato un risultato sicuramente molto forte. Quindi ecco, è singolare questo, che se probabilmente Salvini dicesse le stesse cose a Conte, cioè tutti i morti che ci sono stati in Italia, ce l'hai tu sulla coscienza, avrebbe subito sepolto dall'esecreazione generale come uno sciacallo, invece Biden che dà lo stesso messaggio viene considerato un grande leader dai giornalisti, molto strano questo, del resto la sua ricetta per superare la Covid alla fine, qual è? Visto che sostanzialmente dice solo io obbligo a tutti a mettersi la mascherina. Noi italiani abbiamo visto e tanti altri paesi europei lo stanno vedendo, purtroppo mettersi la mascherina, farla mettere a tutti anche all'esterno non è una misura sufficiente per salvarsi dall'epidemia. Quindi chissà se effettivamente gli americani non noteranno la superficialità di questo messaggio che alla fine tende a biasimare Trump anche su cose su cui obiettivamente forse si poteva fare più, però nessuna mondo è riuscita a fare molto di più. Tornando invece a quell'elettorato che potrebbe riuscire a scompaginare le cose rispetto a quanto previsto ai sondaggi, sicuramente c'è l'elettorato delle minoranze. Trump non fece male nel 2016 tra fra americani e ispanici e malgrado tutta la narrativa che lo vuole razzista ci sono diverse e dicono che mi pare particolarmente bene non solo tra gli ispanici anticomunisti che diffidano dell'emergere dell'ala radicale dell'estrema sinistra nel Partito Democratico ma anche tra gli afroamericani giovani, quelli che magari sono meno legati alla prassi comune della popolazione afroamericana di votare per lealtà verso il Partito Democratico anche se poi non sempre le loro posizioni. Ricordiamo che gli afroamericani sono tra quelli che a livello di costumi e di valori sono tra i più conservatori negli Stati Uniti e d'America. Potrebbe esserci questa breccia di cui sarebbe emblema il fatto che Trump ha ricevuto degli endorsement o delle aperture se non dei veri endorsement da alcuni rapper molto famosi afroamericani che si sono soltanto dei cantanti però in un panorama in cui tutti i VIP si schierano praticamente compatti per Biden che questi invece prendono apertamente posizioni per Trump, Kanye West, Ice Cube, 50 Cent soprattutto Lil Pump che è andato addirittura al comizio, ha partecipato addirittura all'ultimo comizio di Trump. Tu lo vedi questo scenario in cui sorprendentemente il candidato cosiddetto razzista viene fatto vincere invece dall'elettorato delle minoranze mandando ovviamente in frantumi tutta questa narrativa progressista? Il Trump è razzista è una sciocchezza, lo è sempre stata, ma non perché io sia nella mente o nella coscienza di Trump, io non so cosa pensi Trump a riguardo, il tema è che Trump ha sempre saputo ma fin dal 2016 che fondamentalmente non sarebbe mai potuto riuscire ad arrivare alla Casa Bianca senza un incremento nel voto delle minoranze, cioè senza quell'incremento sostanzialmente avrebbe fatto la fine di Mitt Romney nel 2012 che ricordiamo era il candidato repubblicano di allora. E quindi Trump nella sua campagna per la riconferma ben da prima che scoppiasse la questione del coronavirus si è sempre concentrato molto sul tema afroamericani, anzi sul segmento afroamericani e sul segmento ispanici, magari facendo leva ovviamente su anche tematiche diverse ma non poi così diverse perché il punto nodale che il Presidente ha usato per cercare di accattivarsi i voti di queste frange è sempre stato principalmente quello socio-economico, il tasso di disoccupazione basso, il fatto che soprattutto tra gli ispanici molta gente abbia potuto accedere alla classe media e poi c'è anche il tema securitario, il tema securitario viene raccontato spesso come un tema tendenzialmente razzista o comunque ostile nei confronti delle minoranze etniche, non è esattamente così perché le minoranze etniche, gli afroamericani e gli ispanici spesso e volentieri condividono la posizione di Trump sul tema della sicurezza perché ricordiamoci che alcune ricette proposte a Black Lives Matter sul taglio dei fondi alla polizia per esempio hanno impattato negativamente proprio sugli afroamericani e poi c'è anche il tema dell'immigrazione clandestina, gli ispanici sanno perfettamente in America che attraverso l'immigrazione clandestina al confine con il Messico non solo entrano fiumi di droga ma spesso e volentieri le donne vengono anche stuprate in questi viaggi osceni perché lì hanno i cosiddetti coyotes, li chiamano che sono i nostri scafisti solo via terra per capirci il concetto, il concetto è questo. Per cui ecco Trump starebbe guadagnando terreno, vedremo appunto i risultati elettorali, è ovvio che lui non vincerà la maggioranza del voto afroamericano, del voto espanico ma quello a cui lui punta è sottrarre margini più possibile ampi a Biden e questo lo può aiutare come dicevo prima in Florida, lo può aiutare in Nevada ma anche attenzione attenzione cito un articolo del New York Times uscito il 26 ottobre quindi pochi giorni fa a tenere la leadership in Texas dove molti sondaggi lo danno in bilico, lo danno anzi addirittura quasi perdente ma il New York Times ha detto Biden in Texas ha grosse difficoltà perché i latinos sono freddi nei suoi confronti anche perché attenzione tu dicevi prima giustamente che le quote delle minoranze sia afroamericana che latina non sono in maggioranza progressisti saranno un 30% ciascuno ma anche gli latinos progressisti Biden non lo amano perché il loro candidato di riferimento alle primarie era Bernie Sanders quindi insomma il problema per Biden sotto questo aspetto è abbastanza spinoso almeno potenzialmente sì allora intanto ho ricevuto il messaggio da Max Ferrari purtroppo non riuscirà a collegarsi con noi perché è in viaggio tra i seggi riepilogo brevemente quello che comunque aveva avuto modo di sentire da lui quindi posso condividerlo ecco con chi ci sta ascoltando ovviamente non ci sono scene di intimidazione soppressione del voto come dice qualcuno da parte dell'amministrazione Trump e dei suoi sostenitori ha notato invece quando è stato a Washington che la Casa Bianca è circondata da manifestante cartelli ostile al presidente segno non esattamente che si stia in un contesto di di repressione come qualcuno vuole dipingere ha notato anche che purtroppo questa non è una bella notizia moltissimi esercizi commerciali hanno sprangato le proprie vetrine e le proprie porte perché temono disordini laddove dovesse vincere Trump disordini annunciati da parte di questi gruppi di estrema sinistra che sperano in una vittoria di Biden e un'altra cosa che mi diceva parlando con gli esperti e le persone diciamo coinvolte nei due partiti nei due campagne elettorali notava in entrambi la convinzione di vincere cosa che potrebbe sembrare scontata ma fino a poco tempo fa i repubblicani erano un po' più sottotono un po' più scettici invece adesso c'è la convinzione genuina anche in campo repubblicano tra dette lavori repubblicani di effettivamente potercela fare ecco nel frattempo invece ci ha raggiunto eh Guglielmo Picchi eccoci buonasera a tutti perfetto allora Guglielmo ehm abbiamo già discusso con Stefano la questione dei dei sondaggi che sembrano condannare assolutamente Trump però stavamo valutando dove potrebbero essersi sbagliati quali potrebbero essere le vie per Trump di dire ottenere la casa bianca eh so che tu hai osservato con precisione alcuni dati in particolare riguardanti la Florida ci vuoi spiegare che cosa hai potuto eh vedere qual è la tua analisi? Ma sì io ho seguito con con molta attenzione il diciamo i numeri sul campo cosa sono i numeri sul campo eh non sono indicatori precisi ma sono proxy che comparati rispetto alle elezioni precedenti possono dare un'indicazione su quello che avviene in uno stato eh in molti molti stati americani è possibile quando non esistendo un'anagrafe universale quindi come come la nostra esiste la registrazione del voto e quando uno si va a registrare in molti di questi stati si può dichiarare se eh la propria affiliazione politica che quindi si divide sostanzialmente in in tre nel repubblicani democratici e non parti affiliates o i cosiddetti indipendenti. Eh andando a vedere questo tipo di di registrazione si nota come in molti stati che i sondaggisti considerano assolutamente eh a favore di di Biden in realtà il dato di registrazione dei dei repubblicani è eh molto buono se non è addirittura superiore in molti casi rispetto al a 2016 e il cosiddetto gap eh di eh sia di registrazione che di partecipazione al voto nel nel due modalità di di voto anticipato che hanno eh quindi sia il voto anticipato di persona che il voto postale beh i repubblicani sono messi abbastanza bene. Ora eh è chiaro che eh registrarsi per un partito politico e poi votare il partito politico è eh vuol dire non è eh di univoco quindi non è detto che uno impeghi l'altro. Eh qui però ci vengono incontro i eh sondaggi che proprio i sono alcuni dei sondaggisti che voi avete citato eh però questi sondaggi eh che eh molti considerano che Trump la campagna di Trump considera estremamente biased nei confronti di di Biden eh ci danno anche alcune assunzioni su quale sia eh diciamo il il cross party voting ossia quanti repubblicani votino per Biden mh come si dividano gli indipendenti e quanti democratici o non vadano a votare o possano addirittura votare repubblicano. E allora se si applica eh questo queste assunzioni di eh ipotesi di eh cross party voting eh che fanno i sondaggisti che sono hanno fatto sondaggi già biased nei confronti di di Trump e nei confronti di Biden e che quindi non dovrebbero essere dei dati particolarmente generosi eh nei confronti di Trump beh se si va a vedere questo si scopre che eh sondaggi che danno margini molto consistenti a a Biden in realtà possono essere eh diciamo accorciati di cinque, sei, anche sette punti percentuali. Naturalmente non è una scienza esatta eh però eh io dico delle due l'una o sono sbagliati in toto i sondaggi o le assunzioni di attribuzioni del del cross party voting su cui sono costruiti gli stessi sondaggi eh non sono eh applicati coerentemente sul caso eh di scuola e come tu citavi bene Daniele è la Florida. Eh in Florida normalmente eh la soglia che è considerata per i democratici tra early voting in person e vote by mail eh anticipata è di circa duecentocinquanta mila voti eh prima di entrare nel nell'election day. Eh questa volta questa soglia che era di più di duecentocinquanta mila nel 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 duemilasedici eh i democratici sono entrati a meno di centoventimila e eh vedendo le prime ore di voto il margine che i registrati repubblicani eh che stanno andando a votare oggi nell'election day ha già portato questo margine a un'oretta fa a oltre centoventimila voti. Per cui se si dovesse applicare eh il criterio dei sondaggisti eh beh eh per ora Trump dovrebbe risultare risultato avanti. E ci sono alcune contee eh molto particolari che eh possono essere la cartina di tornasole per quella Florida. Eh pensa a una contea dove ci sono molti anziani eh dove c'è il dove Trump ha fatto eh open due grossi rally dove è andato anche Mike Pence eh The Villagers. Eh la seconda contea importante è Pinellas quella dove c'è San Petersburg e quindi sulla sul Golfo del Messico e la terza è Miami-Dade che è il grosso della città di Miami. In queste tre città eh il margine di eh registrati repubblicani eh che si sono recati alle urne è consistente. Molto consistente al di là dei numeri eh del eh 2016. Quindi da questo punto di vista dovrebbe far eh insomma ben sperare per per Trump. Naturalmente rimane un'incognita e su questo non eh per quanto studiato e ho applicato le 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 soluzioni su quale sia poi effettivamente il l'intenzione di voti dei non eh dei non registrati. Perché ci saranno quasi undici milioni di voti in in Florida. Di questi più di due e mezzo saranno di eh cosiddetti non parti affiliates. Quindi gli indipendenti. Eh e qui si entra in un territorio veramente eh scivoloso poiché eh tutti i sondaggi eh sia quelli pro Trump sia quelli eh estremamente pro Biden eh danno un range tra eh attribuzione all'una o all'altra parte eh che va dal un 60-40 a favore di Trump addirittura a un 30-70 a favore di Biden. Quindi capite bene che un'oscillazione così grande su eh oltre due milioni e mezzo di eh di indipendenti eh potrebbe assegnare la la Florida all'una o l'altra. Eh l'ultimo elemento che eh ci tengo a sottolineare per eh per la Florida eh è che eh già stata ricordata ho sentito prima Stefano ne parlava di tutti la componente di Latinos che potrebbe non essere eh particolarmente eh favorevole a Biden eh e in particolare ci sono due sottocategorie quindi non solo i cubani esuli che chiaramente eh voterebbero pro Biden e normalmente sono registrati come democratici. Quindi questo potrebbe portare a un cross voting da parte di democratici verso verso Trump molto forte. Ci sono tutti eh gli esuli venezuelani chiamiamo così quindi tutti coloro che hanno la doppia cittadinanza americana e venezuelana che sono eh diciamo molto discontenti di tutto quello che è avvenuto e a favore di Trump per la posizione dura che ha preso nei confronti di di Maduro e la terza categoria che sono i portoricani. Eh Trump è stato in occasione di di ben due uragani che si sono che si sono abbattuti sull'isola di Porto Rico eh ha portato notevoli aiuti federali e i portoricani sono ben presenti in tutta la California del Sud e in particolare nella nella contea di di Miami-Dade. Eh per cui non abbiamo dati dati certi ma ci sono segnali interessanti. Eh mi permetto anche di di aggiungere su 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 altri stati che sono diciamo particolarmente da andare a vedere eh in Nevada eh eh la eh c'è la contea di Clark se non mi sbaglio il nome eh dove normalmente la eh il vantaggio dei eh democratici eh che poi può assegnare o meno la la vittoria dello Stato eh con le ore da quando si è aperto le urne si sta eh riducendo significativamente. Era una contea dove anche nell'election day eh i democratici performavano molto bene. Per la prima volta sulla base sempre della registrazione dei 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 partiti politici eh potrebbe eh potrebbe andare giù. Quindi diciamo che anche in stati che vengono già assegnati da Biden dove Trump ha investito relativamente diciamo poco effort dal punto di vista dei comizi, c'è andato, ha mandato Pence, ha mandato i figli ma insomma è stato molto molto modesto beh ci potrebbero essere segnali eh che i sondaggisti non sono stati in grado di di tracciare. Un ultimo elemento, un commento che 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 vorrei fare è su il Trump shy voter eh cioè il lettore di medio di Trump che non ha il coraggio di dichiarare cosa vota. Eh intanto è un fenomeno che noi in Italia conosciamo bene perché eh certe aree geografiche penso soprattutto per esempio alla Toscana eh dichiarare eh che prima quando il centrodestra era abitato da Berlusconi che uno votava Berlusconi e oggi dichiarare che voto Salvini è considerato uno stigma sociale quindi tendenzialmente uno non dichiara eh la propria appartenenza politica e questo negli Stati Uniti cosa che non era mai stato nel precedente è qualcosa di di rilevante. Eh cito un caso di un di un amico che eh vive vota in Pennsylvania ehm che ha il padre che sui social media eh gira con i cappellini make America great again. Eh gli amici liberal di questo di questo ragazzo gli dicono ma tu rivolgi ancora la parola a tuo padre eh perché è uno stigma sociale essere un elettore di Trump. Beh questo potrebbe essere un fenomeno che eh nessun sondaggista e forse nemmeno diciamo i numeri interni della campagna di Trump sono in grado di rilevare. C'è un'altra questione che vorrei chiedere la vostra su cui vorrei chiedere la vostra opinione che eh è quella dei media. Tu Guglielmo sei un eh un politico eh Stefano giornalista quindi diciamo potete sicuramente dare due prospettive fondamentali su questo. Eh come si sono comportati i media? Eh togliendo Fox News, New York Post, ecco quelli pochi media che sono favorevoli da Trump abbiamo visto dall'altra parte anche di quei media che in teoria qui in Italia vengono ancora dipinti come specchio di autorevolezza e oggettività tipo New York Times, CNN, fare di fatto schierarsi apertamente per Biden ma anche come dire cambiare il proprio modo di fare giornalismo proprio in base a a a a questo a questa loro scelta partigiana. L'abbiamo visto ad esempio nel fatto che Biden ha concesso pochissime conferenze stampa spesso non ha preso domande o prendeva domande eh concordate precedentemente un comportamento che ha fatto la trampa avrebbe fatto gridare lo scandalo che invece è stato accettato eh molto passivamente dai media quando ha fatto Biden o l'ultima vicenda quella appunto del eh delle email del figlio Hunter Biden che si sono scoperte che sostanzialmente sembrano dimostrare eh che il figlio Hunter Biden ha guadagnato molti milioni di dollari eh sfruttando il padre organizzando quindi dei incontri con il padre con altri pezzi grossi del partito democratico per conto di investitori esteri anche di paesi come la Cina comunista non esattamente eh pienamente amici eh di Washington e e forza addirittura che anche Joe Biden avrebbe partecipato alla partizione di questi tutti e sappiamo che questa notizia è stata praticamente censurata da eh le testate favorevole a Biden o citata puggevolmente come la più rea del complotto anche se eh i dati sono lì sono materiali sono stati pubblicati da un antico giornale statunitense fondato dal padre fondatore Emerson e New York Post in cui accanto addirittura è stato bloccato per settimane da Twitter Twitter e Facebook hanno cercato platanamente di bloccare eh la diffusione di questa notizia una scelta assolutamente inusitata che eh veramente apre dal mio punto di vista dei scenari orguegliani ecco questo non dovrebbe preoccupare chiunque non sia schierato come pensiero unico anche in Italia chiedo Guglielmo Picchi che ricorda un esponente della Lega. Quello che è avvenuto su su sui social media è eh quantomeno mi ha lasciato perplesso io ho fatto molti molti interventi di condanna di quello che che è avvenuto di social media che erano si considerano piattaforme quindi eh devono portare contenuti invece si sono trasformati in eh censori di quello che è il il contenuto eh appropriato secondo loro senza aver stabilito in realtà delle linee guida ben ben precise che potevesse essere pubblicato o meno eh il il caso del New York Post è è proprio quello scandaloso in cui eh al di là del del contenuto che insomma possa essere saranno sarà la FBI a guardarci dentro saranno gli altri gli altri giornalisti però eh quando le tre big tech sono state convocate alla commissione del senato USA eh dal senatore eh dal senatore dal committee on commerce che è science e transportation che è il senatore Wicker eh beh hanno hanno posto la domanda molto chiara posto la domanda molto chiara ai tre eh capi azienda quindi c'è la sondazione ufficiale di Google c'era Jack Dorsey di di Twitter e Mark Zuckerberg di di Facebook e ha chiesto loro insomma ma voi siete eh avete informazioni tali per cui eh queste eh le informazioni su Hunter Biden il dossier che è stato fatto dal New York Post che sia voglio dire frutto di di qualche influenza straniera sia un Russian Oaks eh o qualcosa del genere tutte e tre hanno hanno dovuto ammettere che non sono non ne sono a conoscenza la risposta più carina è stata forse quella di 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 Mark Zuckerberg il quale ha detto eh dice beh io lascio questa questa risposta a alla competenza dell'FBI eh allora incalzato dal senatore Wicker eh gli hanno chiesto beh insomma ma lei ne sa qualcosa sì o no e lui ha dovuto mettere no to the best of my knowledge personally non ne sono non ne so niente eh i social media non non sono state piattaforme ma hanno preso parte attiva nella nella discussione eh sono diventati editor quindi sono stati eh di fatto eh giornalisti anche loro perché hanno scelto quali notizie fare arrivare al pubblico americano e quali e quali no eh tutti i media a parte voglio dire pochi network diciamo il pro Trump ma il grosso è stato assolutamente contro con narrazioni che insomma insomma certe volte speravano anche il se permettete ridicolo perché insomma erano veramente estremamente biased insomma ricordavano certo basso giornalismo fatto alcuni anni fa nei confronti del del presidente per Rusconi eh in Italia per il voglio dire per la quantità di partigianeria e di cecità insomma di ipocrisia che veniva messa messa in campo eh credo che però insomma tutti abbiano ben compreso quale sia stato il ruolo di di social media e della stampa in in generale e che per quanto possano essere importanti perché non bisogna mai sottovalutare però eh non credo che eh Trump vinca o perda per eh insomma per l'influenza dei dei media che però sono stati assolutamente contro contro di lui e ho avuto modo di di sperimentarlo perché ho provato più volte a eh tuitare e commentare quel quel link del New York Post proprio sul sul video di su Hunter Biden eh e la cosa divertente è che dopo essere stati bloccati una settimana mi sono stati sbloccati proprio oggi per cui i tweet fatti credo una decina di giorni fa sono andati online eh solo adesso eh i media sono 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 biased hanno una narrazione assolutamente pro Biden come del resto voglio dire anche i soldagisti e tutto quanto la narrazione di un certo di un certo establishment è che debba vincere Biden Biden sia quello buono e Trump sia quello cattivo e questo è quello che hanno cercano il messaggio che hanno cercato di convogliare al agli elettori americani. Stefano tu che ne pensi di del del comportamento di questi tuoi colleghi? Ma guarda eh partendo proprio dal discorso sui social media eh Twitter e Facebook hanno dato eh tre spiegazioni per cui hanno censurato quegli articoli perché non fu solo un articolo tutta la serie degli articoli New York Post ad essere censurati che fosse un articolo non verificato nel contenuto che si trattasse di contenuti privati attenente alla sfera privata e infine che fossero informazioni ehm tratte illegalmente. Allora ammettiamo e non concediamo che queste tre accuse siano vere. Non contenuti non verificati. Allora io mi chiedo ma quando il 10 gennaio del 2017 il sito BuzzFeed che se parliamo di autorevolezza delle testate non mi sembra una testata da Pulitzer BuzzFeed rispetto appunto al New York Post per quale motivo quando quel 10 gennaio 2017 BuzzFeed pubblicò il dossier di Stihl che ricordiamo era il documento che diceva che Trump era sotto ricatto dei russi per comportamenti sessuali scabrossi avvenuti a Mosca nel 2013. Un documento che già all'epoca si sapeva benissimo e tutti dissero quasi tutti dissero che era infondato e non verificato. Twitter e Facebook non hanno minimamente bloccato la sua diffusione. Quando ho scritto l'articolo su New York Post quando era tre quattro settimane fa ho fatto la ricerca su Twitter al 2017 per vedere se esistevano dei tweet di gente che condivideva e ne ho trovati a Iosa su quell'articolo di BuzzFeed. Tra l'altro ricordiamoci che il dossier di Stihl è stato provato che fosse infondato perché l'FBI ha interrogato nello stesso 2017 la fonte primaria di quel rapporto, di quel dossier, l'ha detto insomma in gran parte non è verificato nulla, alcune cose sono addirittura inventate e poi ricordiamo che è stato scoperto che quel dossier sia stato finanziato dagli avversari politici di Trump nel 2016 a partire da Hillary Clinton. Punto secondo, contenuto privato, non si possono condividere informazioni di carattere privato e allora scusatemi ma lo scoop recente del New York Times sulla dichiarazione dei redditi di Trump? Quello che cos'era? Quello non era materiale privato? Eppure Twitter e Facebook non hanno minimamente bloccato quello scoop ma stando a quel tipo di regola avrebbero dovuto bloccarlo. Infine le informazioni tratte in un modo illegale o comunque non consono eccetera. Benissimo ma allora tutte le informazioni vere o presunte che una parte dell'intelligenza americana ostile a Trump per tre anni, anzi quattro, ha fatto uscire su Russiagate facendole mandare illegalmente a Washington Post, CNN, New York Times e chi più ne ha più ne metta non mi pare anche in quel caso che Twitter e Facebook abbiano fatto nulla per bloccare quel tipo di informazioni. Allora io credo, io credo che ovviamente, questo è sotto gli occhi di tutti, c'è un doppio pesismo difficilmente accettabile ma è spiegabile in senso evidentemente politico e questo non solo perché i social network, i big della Silicon Valley storicamente sono vicini al Partito Democratico, non è secondo me tanto una questione di tradizione, mettiamola così, perché sono molto più pragmatici di come talvolta vengono dipinti. Ma vorrei soffermarmi sul fatto che ad agosto scorso Joe Biden ha scelto come sua candidata vice una signora, una senatrice che si chiama Kamala Harris. Kamala Harris è stata scelta, diciamo, in alternativa ad un'altra signora, un'altra senatrice che si chiama Elizabeth Warren. Qual è la differenza sostanziale tra queste due figure che appartengono entrambe all'area progressista, insomma non dovrebbero essere poi così distanti? Su una cosa in particolare, Elizabeth Warren ha una posizione sui big della Silicon Valley molto dura, molto energica, che non è poi così dissimile da quella che sta avendo Trump per esempio in termini di antitrust o quella che ha avuto Bernie Sanders su Amazon. Dall'altra parte abbiamo invece Kamala Harris che è una senatrice che già quando era procuratrice della California, quindi parliamo di qualche annetto fa, non solo ha ricevuto gli endorsement degli altri esponenti della Silicon Valley, adesso non ricordo che incarico avesse, però una delle altre sfere di Facebook ha dato il suo endorsement alla Harris anche quando è stata scelta come candidata alla vicepresidenza, ma la Harris ha anche ricevuto in passato finanziamenti dalla Silicon Valley. Quindi quando si dice che Kamala Harris è stata scelta perché è donna, è stata scelta perché è di colore, per la sua storia, io sinceramente sarò cattivo, non è che ci creda molto. Kamala Harris è stata scelta tra le altre cose principalmente perché doveva essere un segnale distensivo alla Silicon Valley, a quel mondo di potentati che una volta che hanno capito che il ticket democratico non aveva nessuna intenzione di far loro la guerra, hanno restituito il favore, perché altrimenti un comportamento doppio pesista come quello che abbiamo visto con Facebook e Twitter in relazione al caso New York Post, indipendentemente ribadisco, se quegli articoli siano veri o falsi non si spiegherebbe. E quindi dico attenzione perché questo è un tema che ha, a mio modesto avviso, anche un peso in campagna elettorale sotto due punti di vista. Innanzitutto la vicinanza del ticket democratico e del partito democratico alla Silicon Valley ha già mostrato quattro anni fa i suoi limiti perché alcune aree del paese, penso ai colletti blu della Rust Belt, quattro anni fa non votarono per Hillary Clinton anche, non solo, ma anche in virtù di quella stretta vicinanza. E in secondo luogo, e concludo, io credo che l'elettorato trumpista, diciamo così i trumpiani, siano di una cultura che in America affonda le sue radici nel jacksonismo, quindi alla tradizione del presidente ottocentesco Andrew Jackson. I jacksoniani hanno una caratteristica, sono anti-establishment. Se tu bombardi i jacksoniani e gli dici devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, quelli ti fanno l'esatto opposto perché non hanno nessuna intenzione di essere coartati. Per cui io credo, poi vedremo ovviamente come andranno i risultati, che questo bombardamento sia a livello mediatico sia a livello di social network unidirezionale nei confronti di Trump e fondamentalmente doppio pesista, alla fine possa rivelarsi paradossalmente controproducente per chi l'ha innescato. Grazie Stefano, abbiamo anche avuto diversi commenti, ringrazio tutti gli ascoltatori che stanno commentando e partecipando, molti esprimono il loro sostegno per Trump, cosa non sorprendente per chi segue le nostre pagine, in particolare Giorgio Laporta ci segnala alcuni sondaggi che mostrano l'avvicinamento di Trump, soprattutto negli stati chiave. Una domanda che viene fatta è quando si saprà qualcosa, sappiamo che i seggi, ripeto, chiudono tra la mezzanotte e le sette italiane, quelli degli stati in bilico principali vanno tra l'una, chiude la Giorgia, arriviamo fino alle tre quando chiudono Arizona, Michigan, Texas e Wisconsin. Stefano, quando è che però poi effettivamente al netto di exit poll che usciranno subito dopo la chiusura dei seggi, se non addirittura prima, quando è che avremo dei dati un po' significativi secondo te? Lì dipende, secondo me dipende molto dalla quantità, diciamo dall'affluenza di persona di oggi. Se abbiamo dei risultati a grandi numeri, allora possiamo anche dire che in alcuni stati come Florida, Georgia, l'Ohio, domattina dovremmo avere dei risultati definitivi, però è anche molto difficile perché con la forte presenza del voto postale non lo sappiamo. L'unica cosa certa al momento è che la Pennsylvania e il Wisconsin sul voto postale andranno molto a rilento, quindi se l'elezione si deciderà come è probabile sulla Rust Belt e quindi sulla Pennsylvania potremo aspettare addirittura dei giorni, però dobbiamo capire innanzitutto come andranno gli stati che dovrebbero uscire presto in qualche modo, tra poche ore o domattina stessa, penso appunto alla Georgia, alla Florida, all'Ohio, forse credo anche all'Arizona, però poi il tema è capire eventualmente quanti sono andati a votare e che cosa hanno votato. Se abbiamo una maggioranza schiacciante di gente che va a votare al seggio oggi pro Biden o pro Trump in Arizona, per dire diventa quasi, non dico irrilevante, ma il voto per posta passa in secondo piano, laddove invece la situazione fosse più equilibrata e lì bisognerà attendere gli scogli. Bene, ringrazio moltissimo Stefano Graziosi, di cui ho dimenticato di dire, è un dato importante che anche coautore del libro, con un certo Daniel Scadella del libro Trump contro tutti, le le elezioni sono arrivate, però penso che possa essere ancora interessante leggerlo anche ancora nei prossimi giorni e settimane per capire come cambierà o come rimarrà l'America a seconda dell'esito. Ti lasciamo andare per, visto che ti aspetta una maratona notturna mediatica. Grazie Stefano. Buonasera, grazie a entrambi. Buonasera, grazie a tutti. Guarda, parlare del periodo ipotetico dell'irrealtà non rientra tra le mie, tra le mie, ricordo che quattro anni fa, molte conversazioni, sentivo sempre parlare perché un'amministrazione Clinton farà questo, un'amministrazione Clinton farà quest'altra. Innanzitutto fatemi dire una cosa, io porto la cravatta rossa non perché mi senta di sinistra, ma perché è rosso, il red wave repubblicano, ci tengo a dirlo e porto anche bandierina americana e stemma della Casa Bianca per dire quanto oggi mi sento americano. Io credo che la vittoria di Trump sia necessaria perché Trump ha dimostrato una grande leadership in tutto il mondo e credo che il suo lavoro debba andare avanti. È riuscito a, per la prima volta nella storia, incontrare il leader nordcoreano in Corea del Nord, non c'era mai riuscito nessuno, a far rallentare se non saltare completamente il programma nucleare di Kim Jong-un. È riuscito un altrettanto storico, tramite gli accordi di Abramo, a riuscire a normalizzare le relazioni diplomatiche tra Israele e alcuni stati arabi e molti altri stanno ancora arrivando. È riuscito per la prima volta a prendere la posizione in maniera estremamente dura nei confronti del commercio internazionale, penso non solo sulla Cina, aprendo anche ad altri la possibilità di negoziare con i cinesi, ma anche tutta la parte di rinegoziazione dei trattati, pensa al NAFTA, ma altri che dovevano essere fatti il trattato di libero scambio con l'Europa o con il Giappone che sono stati buttati al macero, voglio dire, to cure. Quindi io auspico che questo tipo di politica estera, di politica commerciale e tante altre questioni penso di dire alla NATO, all'approccio in Iraq e in Afghanistan, ma ci sono tanti altri casi molto più piccoli alla responsabilizzazione degli alleati che Trump ha sempre chiesto, in particolare agli europei. Questo con Biden potrebbe non avvenire. Ricordo che Trump è l'unico presidente americano praticamente dal 1950 in poi che non ha iniziato nuovi conflitti armati. Premesso che Biden non credo che rimarrà molto presidente se dovesse vincere perché mi sembra che il suo stato di salute, il suo stato soprattutto di incepiente, demenza senile, siano molto preoccupanti. Quindi bisogna più che altro guardare a quello che dovrebbe fare Kamala Harris. Kamala Harris è una radicale che mi preoccupa molto nel tipo di rapporti che potrebbe avere in tutto il mondo. Penso che sia una globalista spinta, che sia per un commercio senza regole aperto in particolare alla Cina e questo non sia qualcosa di molto favorevole a tutti noi europei perché potremmo perdere una sponda importante come quella degli Stati Uniti. Quindi io direi molto allarme se Biden dovesse diventare presidente. Potrebbero cambiare le polisi economiche, le polisi sanitarie, le polisi di ingaggio da parte degli Stati Uniti nel Medio Oriente, nel Mediterraneo. Ci sono molte incognite. Il fatto è che, sentivo prima, parlava molto bene Graziosi, la piattaforma di Biden è estremamente corta. Cioè la piattaforma voglio dire programmatica di Biden. Di politica estera nella sostanza non si è praticamente mai parlato. Di politica economica nemmeno. L'unico punto che è stato toccato molto è, se si vuole, la parte energetica e ambientale e un po' la parte sanitaria. Però sappiamo bene che queste due parti sono sicuramente rilevanti, ma senza la componente economica e il posizionamento degli Stati Uniti d'America nel mondo, beh ci potrebbero essere molte incertezze. Quindi io spero che Trump ce la faccia per portare avanti quello che ha fatto negli ultimi quattro anni e che potrebbe essere estremamente positivo anche per l'Italia, se naturalmente l'Italia riuscisse a essere governata da un governo serio che sapesse la portanza sulla scena internazionale in modo strutturato e autorevole. Bene, grazie mille ancora a Guglielmo Picchi per la sua partecipazione. Ringraziamento a tutti e tante persone che si sono collegate, che ci hanno seguito, è stato un piacere, speriamo di avervi dato degli utili elementi, utili analisi in vista di questa ultime ore e successivo spoglio elettorale negli Stati Uniti. La mia raccomandazione ovviamente è seguite la pagina del Centro Studi Machiavelli se già non lo fate, selezionate su Facebook, visualizza per primi, così sarete sempre aggiornati. Noi sicuramente già da domani pubblicheremo molti altri articoli e faremo anche altre dirette su questo e su altri temi e con ciò vi auguro a tutti una buona serata e a presto.